Ciao ragazzi e benvenuti anche oggi qui sul mio canale, io sono Gigi e questo è Your Hobby. Oggi andiamo a piantare i pomodori. Ho deciso di realizzare questo piccolo video perché sono andato in campagna a piantare i pomodori e ho utilizzato questo. Questo come vedi non è un bazooka, non è un'arma, ma è un piantatore. Un piantatore a tre ponte, con manico in gomma, super comodo e super efficace per piantare molto più velocemente. Utile per la schiena perché ci risparmi un sacco di lavoro fisico. Andremo a piantare semplicemente inserendo le ponte all'interno della terra e a rilasciare la pianta con questa pratica maniglia. Ma la cosa che più mi ha stupito è da dove ho acquistato questo prodotto. Ho cercato su Amazon questo piantatore per diverso tempo, ma ero sempre troppo insicuro. Prezzi diversi, materiali diversi, poche descrizioni, quindi non lo so, non ero convinto. Ho cercato su internet dove poter acquistare questo piantatore e mi è uscito questo sito, Rug Store. Oltre ad avere prezzi vantaggiosissimi, me l'ha spedito veramente in 24 ore ed è un prodotto super valido. Ora però come al solito ho parlato troppo. Mettiamoci a lavoro e ti faccio vedere come utilizzare questo piantatore. Quelli che andrò a piantare oggi sono pomodori varietà Regina. Sono dei pomodori abbastanza grandi, utilizzabili sia per il sugo che per l'insalata. Col piantatore sarà molto più semplice quest'anno piantarli. Vado ad inserire semplicemente la pianta all'interno del tubo, a conficcare la punta, metà punta, nella terra e a rilasciare. Un'attività semplice e veloce, senza ovviamente alcuno sforzo. Ora, dato che tutto questo piantare mi ha messo fame, e ho deciso finalmente di raccogliere la mia insalata in idroponica. Guarda che super radici, guarda le radici come hanno avvolto addirittura anche l'argilla espansa. Un'insalata perfetta, colorata e soprattutto saporita. Provare per credere! Ora, come al solito, se ti è piaciuto questo video, lasciami un bel like ed iscriviti al canale. Spunta la campanella per restare sempre aggiornato sui prossimi video. Io ti saluto, ti ringrazio e noi ci vediamo sempre qui per il prossimo video. Ciao! Ciao!